Rimane aperta fino al 21 luglio a Pordenone la affascinante mostra Femme 1900, la donna Art Nouveau. Circa 300 i pezzi esposti alla Galleria Bertoia di Corso Vittorio Emanuele. Il curatore Maurizio Lorenzo. In questa esposizione ci sono oggetti provenienti da tutte le collezioni private che riguardano la rappresentazione della donna Art Nouveau. Dalla scultura, alla grafica, all'arte applicata, agli oggetti di uso, alla pubblicità. Quindi l'evoluzione dell'arte che non è solo per pochi ma di tutti. La mostra è proposta dalla Pro Pordenone con il sostegno del Comune. È una bellissima mostra che vuole inquadrare e farci fare un viaggio su un periodo affascinante della nostra arte di fine 800 e inizi 900. E lo fa attraverso quelli che sono i suoi protagonisti assoluti. Lo fa attraverso le riproduzioni di Musca, lo fa attraverso le riproduzioni di Eugène Grasset, lo fa attraverso tutta quella scultura, quella riproduzione, quell'oggettistica che ha reso affascinante un periodo della nostra storia artistica. Per informazioni sugli orari di apertura è possibile consultare comune.pordenone.it Grazie.